Buonasera a tutti, sono qui in Val Germanasca, uno dei siti classici, tipici della salamandra di Lanza. L'animale è un urodelo, un antivio urodelo che ho scoperto e descritto alla fine degli anni 80 insieme ai miei colleghi. Qui al sito della Val Germanasca stiamo conducendo delle attività di monitoraggio e di campionamento perché vogliamo capire se il cambio climatico che è avvenuto in questi ultimi anni, un riscaldamento complessivo, è un riscaldamento che ha avuto degli effetti sulla popolazione di questo interessante endevismo del Piemonte. Si tratta di uno studio che prevede una comparazione tra la longevità determinata circa 20-30 anni fa e la longevità attuale. Speriamo di trovare degli animali, il tempo è un po' inclemente nel senso che non c'è pioggia, però speriamo che tra qualche minuto siano visibili degli animali.